Oggi noi consumiamo il 60% di carne suina che viene da fuori, ma questo vale anche per gli altri tipi di carne. Dobbiamo stare attenti perché stiamo diventando dei consumatori che non producono più. Il ragionamento che abbiamo messo in piedi di Federcarni è quello di promuovere la carne locale andando in piazza, portandola direttamente ai consumatori con delle ricette della tradizione, ma anche innovative. Se abbiamo qualcosa di buono è bene che sia promosso e sia consumato ricorrentemente.